Io spero che il mio pello venga accolto. In fondo questa è casa di mia madre. Si sono presi la casa, il giardino, la soffitta e pure il garage. E pensare che il mio cognato mi ha detto quando è venuto a stare qui Alessandro ha bisogno del suo spazio vitale, adesso se l'è preso tutto lui. Sono molto arrabbiato. Allora 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 Allora